buongiorno come state allora quando uno di voi con me inizio la mia chiacchiera anche se ho già iniziato parecchio a parlare oggi ho già fatto un audio poi vi volevo dire che sto ho iniziato a leggere questo libro siccome l'amica selene calloni ha detto condividetelo io ho iniziato a leggerlo è carino è molto bello è molto bello questo libro wabi sabi tra l'altro è anche il primo in classifica quindi ve lo consiglio è un bel libro allora ragazzi cosa vi voglio dire questa mattina intanto grazie maria paola che dice felice giornata è un augurio bellissimo e che stendo a tutti voi che sia una felicissima giornata ciao loretta ciao fulvia ciao francesco allora c'è il gatto che sta giocando con il mio bastone con il con il coso qua e si cerca di allora ragazzi cosa vi volevo dire in questo video che percependo l'unità di tutti gli esseri di tutta la natura aiuta la creazione percependo la non dualità la non differenza la non differenziazione percependo che tutti gli esseri umani sono uno nel grande spirito in dio quando medito quando prego quando svolgo una qualsiasi pratica devozionale quando mi raccolgo in preghiera per elevare l'energia sento percepisco che tutto il mondo è uno indipendentemente dai pareri dalle idee discordanti dalle lotte dalle battaglie dalle posizioni filosofiche ideologiche e quindi ogni volta che faccio un respiro consapevole ogni volta che faccio un kriya voi sapete che sono un kriya yogi della scuola iniziatica di paramansa yogananda ogni volta che faccio un kriya ogni volta che faccio un ongso ogni volta che faccio un respiro ogni volta che elevo il mio pensiero a dio il grande spirito al divino ecco che io penso a tutti e lo faccio per tutti io sono tutti e tutti sono me quindi questo sentire di unità questo amore perché solo l'amore ragazzi soltanto l'amore quello vero con la maiuscola quello che trascende interiormente ogni divisione ideologica filosofica soltanto l'amore può aiutare il nostro mondo a comprendersi meglio a superare l'ostacolo ad andare al di là quindi fate anche voi questo esercizio tutte le volte che pregate tutte le volte che levate il vostro pensiero tutte le volte che vi unite in meditazione tutte le volte che fate qualcosa di devozionale o spirituale tutte le volte che fate qualcosa che serve a invocare la presenza del divino ciao lisa buongiorno fatelo per tutti tutti sono dentro di noi e noi siamo dentro tutti perché tutto è uno tutto è strettamente correlato e allora in questo spirito di unione la preghiera diventa qualcosa di sacro la realizzazione del sé la pratica spirituale diventa vai a vedere che quei due stanno litigando c'ho una faida in casa ragazzi vedete anche nell'unità anche nell'uno nella nell'uno c'è questa 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 apparente contrasto c'ho due gatti che litigano e quindi in questi giorni stiamo cercando di risolvere questa situazione è sempre rosso è sempre lui che però lo adoro e questo è il punto lo amo tantissimo ma è lui è ce l'ha con l'ultima arrivata anzi la penultima arrivata che non lo vuole e allora lui non accetta questo rifiuto e quindi le dà il tormento è un'altra dinamica dell'amore vedete una dinamica della distorsione dell'amore è il controllo ecco quando si esercita un controllo si vuole esercitare un controllo su sulla natura o sugli altri ecco che è una distorsione dell'amore perché noi non possiamo controllare niente noi non possiamo controllare nulla cioè noi siamo parte del fluire e se ci abbandoniamo al fluire siamo nell'amore se invece siamo nella resistenza nel controllo siamo in una distorsione dell'amore e questo porta alla povertà porta al disagio porta alla separazione al dualismo comprendete quindi è così l'amore l'amore ci porta all'unità e quindi le pratiche spirituali tutte le pratiche spirituali sono una ciao camilla e berenice che citi nel video e quindi saluto tutte e due tutte le pratiche spirituali hanno senso soltanto se noi le pratichiamo con l'intento che siano di beneficio per tutti il vostro respiro iogico la vostra meditazione il vostro suonare il tamburo sciamanico piuttosto che che ne so pregare qualsiasi cosa fate fatelo con l'intento che sia nella coscienza dell'uno e per tutti perché così siamo allora finisco questo video rinnovando la richiesta che io ultimamente sto seguendo il video di selene calloni che mi piace molto devo dirvi la verità secondo me lei veramente è una risvegliata vera una realizzata e quindi mi piace mi piace poi mi fa un sacco ridere quindi prendo anche dei spunti dai suoi discorsi che condivido al cento per cento perché abbiamo lo stesso sentire la stessa visione non duale e quindi l'ho conosciuta per caso perché andavo a cercare i miei libri c'è il mio libro sul giardino dei libri e vedevo questi libri sempre in alta classifica diciamo chi è questa selene chi è questa selene alla fine ho scoperto chi è e sto leggendo questo libro che si chiama wabi sabi che è il suo credo ultimo è bello lei ha chiesto condividetelo perché continua delle belle pratiche quindi ve lo consiglio anche se non l'ho ancora finito di leggere vedete sono alla pagina 50 quindi proprio all'inizio ma ha dei bellissimi concetti wabi sabi significa la villa bellezza della vita imperfetta cioè accettare le nostre debolezze come punti di forza vedere le nostre debolezze come punti di forza e accettare la transitorietà e l'invecchiare come processo naturale è molto bello quindi vedete voi se volete provare dagli una chance e detto questo torniamo attorno alla mia meditazione che è amore amore è condivisione e lasciare andare queste resistenze nel cuore tutto quello che ci dice no siamo separati no siamo divisi no quello ha ragione quello ha torto io sono nella verità quell'altro sta sbagliando tutto questo no oppure le competizioni anche spirituali no bisogna condividere ragazzi bisogna condividere la verità ma guarda che non era mai successo guarda sta cominciando stop rispondo a raffaella che dice ci vorrebbero i fiori di bacca non era mai successo vedete che allora evidentemente anche gli animali risentono di questa tensione che c'è nell'aria passerà ma come tutte le tempeste passerà anche questa e tornando al discorso di prima allora io vi dico tutte le resistenze anche le competizioni spirituali ma quante ce ne sono invece no è il momento della condivisione dell'unione di intenti la verità è la stessa cioè noi tutti che siamo buddisti induisti cristiani cattolici sciamani praticanti dello sciamanismo che qualsiasi cosa noi stiamo facendo o qualsiasi strada sia quella che sentiamo meglio per noi stiamo tutti andando nella stessa direzione cioè verso una consapevolezza non duale verso la realizzazione del sé e quindi perché non unire le verità e lasciare andare le differenze uniamo le verità e lasciare andare le differenze va bene vi lascio alla vostra meditazione e all'unione dell'intento per elevare insieme con i nostri respiri tutto il mondo va bene lo so lisa ce ne sono tante invece no perché la dualità il dualismo è nel pensiero e nella mente nell'io l'io genera il pensiero separato l'io genera il pensiero duale quindi un unico modo per poter dissolvere questa visione del mondo duale è quella di risolvere in sé stessi la propria stessa separazione riconoscerla come inesistente e tuffarsi nel reale nella realtà che è il sé lo spirito la coscienza pura la nostra vera identità la nostra vera natura il sé che è uno con dio e per cui per questo che i maestri dal buddha e tutti i maestri yogananda eccetera parlano del silenzio della meditazione perché nella meditazione nel silenzio nella disidentificazione dall'io questo io illusorio che è maya non c'è separazione non c'è divisione tra manifesto in manifesto e così quando noi preghiamo e amiamo e quando noi danziamo e quando noi cantiamo e quando noi meditiamo quando facciamo kriya yoga quando suoniamo il tamburo quando amiamo con le parole con i pensieri con le azioni quando stiamo facendo un qualsiasi atto spirituale è per i vivi ed è per i morti o che bello Adele sono contento di vederti venerdì che bello sai che è quasi due anni che non faccio incontri chissà se sono ancora capace non lo so non so più niente ragazzi sono vuoto vuoto completamente vuoto come una zucca non so più niente mi affido e ho fede e quindi ci provo ci proviamo facciamo un tentativo comunque così allora è così che facciamo no quando amiamo siamo uno con il tutto quando amiamo siamo uno con il tutto provo di vedere le cose dalla prospettiva corretta e cioè noi non possiamo fare a meno di arrivare alla fine di questa vita no non non ci sono scorciatoie scappatoie però possiamo farlo nel modo corretto cioè amando superando ogni resistenza ogni ostacolo ogni separazione è una mancanza d'amore fondamentalmente questo il mondo è questo in questo momento una sfida verso l'amore e siccome amare richiede coraggio cioè il coraggio di andare oltre se stessi oltre quel muro illusorio chiamato io ecco perché pochi lo superano perché richiede un certo sforzo richiede un coraggio indomito un grande spirito va bene vi voglio bene ragazzi perché siete me e adesso vado un po a meditare per tutti noi e per il mondo e per chi è di qua e per chi è di là vi abbraccio siate sereni andrà tutto bene siamo guidati da una forza che va oltre la mente siamo guidati da una forza che va oltre il pensiero lineare alla prossima anche io anna ti voglio bene ciao loretta ecco allora visto che parli della sardegna e anche selene stamattina nel video delle sette ne ha parlato la sardegna brucia diceva diceva la sardegna brucia e diceva questo è simbolicamente il bruciare della nostra libertà perché gli alberi sono la nostra libertà le foreste sono rappresentano la nostra libertà quindi la sardegna brucia ha bruciato ma si riprenderà e noi stessi siamo gli alberi spirituali che faranno divampare un altro tipo di fuoco il nostro fuoco è il fuoco della verità il fuoco che viene dalla purificazione dalle nostre limitazioni il fuoco dello spirito che brucia ma non danneggia il fuoco dello spirito ragazzi brucia ma non danneggia è un fuoco che purifica ed eleva non crea danni quindi questo fuat no nella teosofia si parla del fuat c'è questo fuoco questa energia spirituale che si sprigiona quando creiamo questo ponte arcobaleno cioè uniamo il visibile l'invisibile è quello che sta sopra quello che sta sotto il dentro e il fuori anch'io ti voglio bene paola grazie il dentro il fuori il sopra il sotto il vivo e il morto l'invisibile l'invisibile il manifesto e l'immanifesto materiale spirituale quando noi siamo in grado in noi stessi di unire il sopra il sotto quando capiamo che non c'è se superiore non c'è se inferiore c'è soltanto il se la pura coscienza che si esprime in sfumature no materiale e immateriale visibile invisibile madre padre spirito e materia ma è uno cazzo è uno ecco che viene fuori la mia parte folle e allora quando sappiamo fare questo ponte arcobaleno allora la paura si dissolve divampa questo fuoco questo fuoco spirituale questo fuoco spirituale e questo fuoco non brucia brucia ma non danneggia brucia ma non danneggia e va bene vi auguro una buona giornata nell'amore e nella gioia e nella risata ciao ragazzi